Salve a tutti ragazzi e bentornati al LoL Club, io sono Padman e sono qui con un nuovo snapshot, il 3GW26A. Sono a cavallo, se possiamo dire a cavallo, questo non è né un asino, né un cavallo, questo è un mulo. E' complicato questo, cioè è già stato inserito però non si è visto molto. Questo è un mulo, nasce dall'accompiamento tra un cavallo e un asino, non può portare la cesta, non può portare l'armatura, non può portare un tubo, no, l'armatura forse si, no. No, non può neanche portare l'armatura, non può far niente e non può copiarsi con nessuno. Però, questo è, diciamo, il cavallo più difficile da ottenere. Infatti, se vedete, non è un mulo perché è rosso. Comunque, non è, scusate, un asino perché è rosso. E non è un cavallo perché non ha l'armatura e comunque è diverso dagli altri. Comunque, questo snapshot è solo bugfix, non c'è niente di... Grazie. A voi? Mangio io? Non posso. Comunque, questo snapshot è niente cose nuove, solo bugfix per il semplice fatto che è già stata data l'uscita della 1.6. Quindi, è stata considerata... No, c'hai ragione. È stata programmata per questa settimana. Quindi, che va dal 24 al 30. Non si sa il giorno, non si sa se uscirà una pre-release o cosa. Però noi aspettiamo... Oh, vieni qui. Noi aspettiamo e, ovviamente, noi dell'Hall Club, come tutte le versioni, stiamo preparando il video speciale. C'è qualcosa di strano. Perché allora il lupo non attacca la pecora? Quale è già attaccata? Vabbè. Stiamo preparando il video speciale. Quest'anno sarà un pochino più corto, dove diremo tutti i cambiamenti, dalla 1.5, in questo caso 1.5.2, fino alla 1.6. Non sappiamo, 6.1, 6.2, 6.3. Comunque, lo prepareremo. Ci avrà un bel po'. L'anno scorso era un'ora e mezza, due anni fa... Perché l'anno scorso? Vabbè, lo snapshot scorso, uh, un'ora e mezza, la volta prima, due ore e mezza ancora. Vabbè, comunque. Io vi saluto e ci vediamo all'uscita della 1.6, che non si sa il giorno preciso. Ecco, faccio vedere che sono diversi. C'hanno il mulo da asino, diciamo così. Fa anche rai anche questo, però questo è un mulo. Va bene. E non si può ottenere con le uova, eh, mi raccomando. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, magari alla pre-release o con la 1.6 direttamente. Qui da Padman è tutto, un saluto dall'Oklub e... Ciao a tutti! Sto distruggendo mezzo mondo!